Vedi che comunque qualcuno passa eh, perché vedi che quello l'hai tagliato Questa cosa è? Vieni qua? Vieni qua, che spina? Ma come è? Molto da salire Non è che spina Non è che spina Ma come è? Sì, sì, sì! e al ritorno lo facevo ma l'andata l'andata non riesce a farlo e al ritorno lo facevo ma l'andata non riesce a farlo e al ritorno lo facevo ma l'andata non riesce e al ritorno lo facevo ma l'andata non riesce a farlo e al ritorno lo facevo ma l'andata non riesce a farlo